Enrico Verata è in rianimazione al Policlinico di Bari, ma le sue condizioni sono stabili. La diciottenne, ferita ieri sera con colpi di arma da fuoco, esplosi dal suo compagno, un 21enne albanese, lo stesso che subito dopo con la stessa pistola si è tolto la vita sparandosi alla testa. L'episodio è accaduto subito dopo le 19.30 in un appartamento all'interno di un recinto in via Martin Luther King a Cassano delle Murge. La giovane di origini marocchina è arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Miulli di Acquaviva, ferita da due proiettili al torace. Nella stessa serata è stata trasferita al Policlinico di Bari, dove, dopo il drenaggio toracico, è stata intubata. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Altamura, coordinati dalla procura di Bari. Si cerca di capire il movente del gesto del giovane albanese, che lavorava come piastrellista. Sembra che la giovane coppia si sia trasferita in questo piccolo appartimento da pochi mesi. Hanno anche una bimba piccola, che ieri sera, per fortuna, si trovava dai nonni materni. La pistola con cui il 21enne avrebbe sparato la convivente e con la quale si sarebbe poi suicidato, è stata recuperata dagli investigatori. Si tratta di una calibro 7,65. Si cerca di capire se si tratta di un'arma detenuta regolarmente. Sindaco, una tragedia di una coppia giovanissima che si è consumata qui a Cassano. Quali sono le ultime novità? Le indagini sono in corso, non abbiamo ulteriori elementi rispetto a quelli che si conoscono. Anche noi come ente stiamo cercando di capire, di saperne di più su questa famiglia, di queste due giovani vite. Abbiamo anche appreso che c'è pure una bambina e questo mi ha ferito molto. Lei conosceva questi ragazzi? Non avevi mai visti? La notizia l'ha presa ieri sera? L'ho appresa ieri sera sul Tardi. Ripeto, purtroppo stamattina stiamo cercando di saperne di più e siamo tutti sconvolti. Il ragazzo, il compagno che purtroppo si è poi sparato con la stessa pistola con cui ha ferito la sua convivente, lavorava come piastrellista? Guardi, anche queste informazioni si raccolgono così di straforo, ma non abbiamo elementi per certi sulle attività anche lavorative. Una comunità sconvolta? Sì, questo sì, perché Cassano comunque è una città molto bella, i suoi cittadini sono persone stupende, da sempre si è distinta per l'accoglienza, già dagli anni 90 diverse etnie, tra cui anche quella albanese, si sono ben integrate nella nostra città.